Salve a tutti cari fratelli e sorelle, Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Dalla nuova bussola quotidiana, Irlanda, Vescovo contro le eutanasia e Twitter lo censura. Prosegue il suo iter al Parlamento irlandese la proposta di legge Morire con Dignità, che mira a legalizzare l'eutanasia, molto critica alla conferenza episcopale, in particolare il Vescovo Kevin Doran, che si è visto censurare un tweet contro il suicidio assistito con la motivazione che violerebbe le regole contro il suicidio. In realtà è la visione cristiana che si combatte. Chiaramente è un articolo molto lungo, cari fratelli e cari sorelle, ma quello che fa comprendere è che va a vedere proprio che tutto ciò dà fastidio proprio alla lotta all'eutanasia. C'è questo disegno di legge, dice il testo di legge che legalizzerebbe il suicidio assistito ed è tesonigliato all'esame della Commissione Giustizia della Camera Bassa e del Parlamento irlandese. La legge è sostenuta da vari partiti, chiaramente, e questo che cosa ha combinato, come poi si scorre dall'articolo, come vedete qui è il tweet dove è stato poi bloccato, perché praticamente dona fastidio questo tipo di discorso ed è stato, chiaramente, come poi potete vedere, bloccata questa cosa qui. Quindi, chiaramente, è una situazione difficile, ma non solo in Irlanda, ma come vedete un po' in tutto il mondo. Dire la verità dà fastidio, cari fratelli e sorelle. Ecco, infatti dice il Monsignor Kevin Doran che guida la diocesi di Elfetalumia è stato molto attivo nel denunciare esplicitamente la malvagità della proposta di legge sull'eutanasia. Doran è anche alla guida di un gruppo di esperti indipendenti della conferenza episcopale che ha predisposto il suddetto documento critico del 26 gennaio e dà fastidio, e molti sono andati contro di lui. Tant'è vero, qui lo dice, no? Molte discussioni civili, qui lo dice, dove attaccano proprio lui. Lui, in quanto Chiesa, in quanto Cristo, diciamocela chiaramente, perché dà fastidio proprio che la Chiesa difende la vita. Questa è la verità. Ecco, Vescovo contro l'eutanasia e Twitter lo censura. Questo è un modo per capire che questa è una persecuzione, ma non contro il Vescovo in quanto Vescovo, ma perché è Gesù che dà fastidio, cari fratelli e sorelle, per farci comprendere quanti tempi sono difficili e quanto bisogna veramente pregare. Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, l'ode e gloria a Cristo e Ave Maria.